C'è un po' di rammarico per come è andata la stagione, perché l'Inter vista stasera non sembra una squadra che sta a ben 17 punti dalla Roma? Una stagione si fa di tutte le prestazioni, dopo 38 giornate di solito la classifica che hai è quella che ti meriti, quindi rammarico magari se è una competizione come una Copa per un rigore, per un'espulsione, per qualcosa vai via, magari sapendo che sei più forte dell'avversario, qua se uno è più avanti dell'altro dopo una quantità di partite importanti vuol dire che più che rammarico c'è da migliorare. Però ancora non è credito, ci credete al prestazione? Non possiamo parlare traguardi, è inutile, sono parole che oggi fanno titolari dei giornali ma che non servono a niente, noi dobbiamo crederci a ripetere prestazioni come queste, quando uno fa una prestazione come quella di oggi, dove nel campo della Roma penso che meriti qualcosa di più di un pareggio, vuol dire che affrontando le altre squadre che magari non hanno la classifica della Roma dovresti essere più propenso a vincere, quindi affrontando così magari fai i punti.